Buonasera ragazzi, dunque partiamo con questi tre minuti del nonno perché c'è tanta 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 roba. Allora dunque, oggi giornata in cui si è parlato di Perisic, ma scusate ma ci dobbiamo, ci stiamo giocando il campionato no? No, abbiamo due partite, io dico due partite, ma si può parlare di mercato, di qualsiasi cosa, di contratti, dopo ste cavole due partite? No, dobbiamo sempre martellarci le scatole con discorsi inutili, tipo quelli societari, quelli del mercato, quelli di Perisic, dei rinnovi. Ma abbiamo due partite fondamentali, fondamentali, ci stiamo giocando un campionato, il Milan non è detto che le vinca tutte e due, non è detto, non è detto che non le perdi addirittura tutte e due, non è detto che se vince l'Atalanta poi col Sassuolo rivince, o tutta il più pareccia, non è detto, bisogna crederci sempre, non mollare mai, mai mollare neanche un centimetro, perché abbiamo già mollato a Bologna, partita stregata, già l'ho detto più volte, partita che non andava giocata, ci dovevano dare quei tre punti, non ce l'hanno dati. Si è infortunato Andanovic nel pullman, è successo di tutto, ma il karma torna indietro ragazzi, torna indietro, quindi pensiamo a queste due partite, pensiamo al fatto che possiamo ancora, che niente è perduto, possiamo ancora vincere ragazzi, basta, basta, basta sempre pensare al fatto negativo, a chi poi adesso c'è anche il fatto che non hanno vendere due, perché c'è 100 minuti di buco, non vinceremo più niente, ragazzi, basta, basta, sta pazzismo, dobbiamo andare avanti, credere nella nostra squadra, credere nei nostri ragazzi, ci hanno portato due trofei quest'anno in due finali importanti, perché da tanto non si vinceva un torneo, non un torneo a punti, un torneo in cui si va ad una finale, ragazzi, per favore, pensiamo solo all'Inter, e tifiamo questa squadra fino all'ultimo secondo, dai ragazzi, manca poco, manca veramente poco, due settimane, e ci possono essere ulteriori soddisfazioni, già così il campionato è comunque stato un campionato stupendo, perché l'abbiamo lottato su tutti i fronti e perché abbiamo dimostrato di essere i più forti, abbiamo dimostrato di essere i più forti, un abbraccio a tutti dal nonno. Grazie per la visione!